Ciao a tutti sono Dista e bentornati su Mindchart. Nel video di oggi andiamo a parlare di WHO, exchange molto interessante che ho avuto modo di testare in questi mesi e adesso andiamo a fare una recensione e andiamo un po' a vedere tutte le qualità che ha questo exchange. In poche parole va a unire il mondo della Cefai, quindi abbiamo UX exchange, col mondo della DeFi e abbiamo WHO. Nel video di oggi andiamo a parlare di UX exchange, andiamo a vedere un po' tutte le funzionalità e tra le tante cose voglio ricordarvi che mi hanno dato una promo molto interessante se volete provare l'exchange. Se depositate un minimo di 100 dollari e nei vostri primi sette giorni farete un volume di trading di almeno 500 dollari potete ottenere 30 dollari in WHO che sarebbe il loro utility token. Poi insieme andremo a vedere un po' il loro utility token della piattaforma. Invece se depositiamo 500 dollari e nei primi sette giorni del deposito facciamo almeno un volume di trading di 1000 dollari possiamo ricevere 50 dollari in WHO. Quindi è una promo molto interessante se vogliamo provare un exchange e smanettare. Ovviamente non sono consigli finanziari, fate sempre le vostre ricerche prima di andare poi a scegliere un exchange. Quindi exchange fatto molto bene, ha buona liquidità assolutamente. Inoltre tra le tante cose dobbiamo prestare attenzione alle proof of reserve che mostrano se l'exchange veramente ha liquidità e da come vediamo abbiamo un reserve ratio del 105.7 e invece il custody ratio del 90.1%. Poi se vogliamo possiamo andare a vedere bene bene nel dettaglio. Tra le tante cose hanno veramente basse commissioni, hanno molta molta liquidità e hanno molti strumenti di trading e vi ricordo che il servizio di customer service è 24 ore su 24. All'interno dell'exchange comprare cripto si può fare in maniera molto semplice hanno trading spot e futures, hanno leaderboard e hanno anche la sezione launchpad. Quindi vediamo che è abbastanza completo ed è come vediamo di semplice utilizzo soprattutto per i trader neofiti. Se andiamo su market entriamo comunque all'interno dell'exchange vediamo che abbiamo molte coppie di trading, comunque è un exchange molto completo. Parliamo comunque di centinaia di coppie di trading. Se entriamo all'interno e andiamo nella sezione di trading vediamo che tutto sommato l'interfaccia è molto semplice e comunque competitiva rispetto poi ai grandi, ai big come per esempio Binance, Bitcat, Bybit, Kucoin, exchange molto più grandi dei liquidi però non ha nulla da invidiare, è fatto molto molto bene come exchange e qua vediamo che possiamo scegliere molte coppie di trading in base poi alle nostre esigenze e possiamo anche metterle tra i preferiti se vogliamo. Un'altra cosa molto interessante è WhoToken, come già vi ho detto in precedenza possiamo ricevere dei bonus, infatti se noi facciamo un deposito di 100 dollari e facciamo trading per un valore almeno di 500 dollari possiamo ricevere 30 dollari in Who. Comunque troverete tutto in descrizione e quindi andiamo a vedere il loro utility token che si chiama WhoToken, quindi chiaramente se noi mettiamo in staking Who possiamo comunque ricevere vari benefici. Al momento il prezzo si trova a 0.34, abbiamo un market cap di 634 milioni, quindi diciamo che non è un token a basso market cap, può essere classificato a medio market cap. Vediamo un po' nell'ultimo anno, abbiamo visto che nell'ultimo anno ha avuto comunque una buona salita parabolica, diciamo un po' per il mercato e un po' anche perché l'exchange sta facendo comunque tante migliorie perché comunque sta sempre progredendo e sta cercando di espandersi anche in Italia. Quindi diciamo che di tenere WhoToken ci dà vari benefici se poi vogliamo anche fare trading all'interno di questo exchange. Diciamo che abbiamo fatto una panoramica molto generale, ci sono molte altre cose da dire, magari faremo altri contenuti per quanto riguarda questo exchange, nel mentre se volete provarlo troverete tutti i link in descrizione con tutte le promo e ovviamente fate sempre le vostre ricerche prima di scegliere un exchange perché è molto importante capire poi dove andare a mettere fondi e fare trading. Ovviamente tutto quello che abbiamo visto non sono consigli finanziari, è solo una semplice review per andare a conoscere questo interessante exchange. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo cripto appuntamento.